Tentava un furto in un'abitazione incontrada a Pozzillo, a Marina di Ragusa, ma è stato colto sul fatto da una pattuglia dei carabinieri che stava effettuando servizio di sorveglianza nella zona. Si tratta di un soggetto pregiudicato, già nota ai militari della stazione di Marina di Ragusa, colto stavolta con le mani nel sacco, mentre cercava di esportare varie suppellettili per il valore di alcune migliaia di euro. L'attenzione degli agenti è stata tirata dall'auto in sosta del malvivente nei pressi dell'abitazione. La porta sul retro era socchiusa e barcata la soglia e due carabinieri si sono trovati di fronte all'uomo pregiudicato classe 1980. In seguito alla perquisizione della macchina del malvivente è stata ritrovata anche parte dell'area furtiva già accantonata e pronta per essere trasportata. Il pregiudicato è stato quindi condotto presso la caserma del comando provinciale e dopo le formalità di rito è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale. Si sospetta che l'arrestato si sia avvalso di un complice e pertanto sono in corso indagini in tal senso.